Una vera ricettina facilissima, con giusto due ingredienti. Abbiamo delle mandorle sgusciate e del cioccolato bianco da pasticceria. Disponiamo le mandorle su di una teglia e le andremo a tostare per 10 minuti a 180 gradi. Una volta tostate le mandorle, le lasceremo riposare e raffreddare. Nel frattempo stiamo anche facendo sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria. Una volta sciolto il cioccolato, mettiamo le mandorle all'interno e mescoliamo. Amalgamiamo per bene il cioccolato e mandorle. Eccoci qua, il composto è pronto. Passiamo quindi subito al prossimo passaggio. Con l'aiuto di un cucchiaino, disponiamo 3-4 mandorle alla volta su di una teglia e lasciamo raffreddare completamente. Le nostre mandorle si sono asciugate completamente. Le abbiamo messe all'interno del recipiente ed eccole qua, pronte per essere mangiate come snack. Preferibilmente non vanno conservate dove ci sono fonti di calore, altrimenti il cioccolato potrebbe sciogliersi. Bensì potrebbe essere ben conservato in luogo fresco e asciutto oppure in frigorifero.